In diretta qui Kate Bradley, Channel 12 News. Tu sei fatta per i pezzi deprimenti. Incendi, lì sia al centro commerciale per il Black Friday. Attenzione! Ai piani alti non piacciono tutti i rischi che corri. Io lo chiamo essere una reporter. La devi smettere. Una donna del Bronx ha chiamato, ha trovato una sacca piena di soldi. È convinta che sia un dono di un buon samaritano. Sei in pausa dai pezzi deprimenti. Donna trova sacca piena di soldi e che notizia è? Non credi sia un buon samaritano? Io sono sempre aperta a tutto, lo sai. Ma no. C'è qualcuno che veglia su di noi e ci aiuta. Penso che sia difficile credere che ci sia qualcuno che fa buone azioni senza niente in cambio. Sono veri, ho trovato la sacca davanti alla porta. Ha messo la sacca qui. Otto persone hanno trovato centomila dollari davanti casa. Stiamo cercando il misterioso benefattore che le ha messe lì. Una donna ha fondato un club di samaritani anonimi. E un tizio in un supermercato di Staten Island ha pagato la spesa per dieci persone. Wow. Quando ho iniziato questa storia ero sicura che questa persona avesse un secondo fine. Invece ci sono molte più persone che fanno del bene. L'interesse verso il buon samaritano continua a crescere. Per questi atti di generosità tutti si chiedono quando e dove apparirà la prossima sacca di soldi. Molti dicono che New York è una città dura. Grazie al buon samaritano ti vedo tra la gente più gentilezza. Credo che il buon samaritano stia dando speranza. Di questi tempi ce n'è bisogno. Si sta diffondendo proprio come veri miracoli. La domanda che tutti qui si pongono è Buon samaritano, chi sei? I know that I'm not alone Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite non perdetevi il nostro blog blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!